Con 1.400 euro circa pro capite a cittadino, Salerno può dirsi il comune delle tasse. Con queste parole l'opposizione è pronta a dare battaglia domani in Consiglio Comunale contro l'aumento dell'Atari per la quale sono previste entrate in più per 700.000 euro e della tassa di soggiorno incrementata del 20%, un aumento che andrà a farsi rivalere sulle attività commerciali per le quali oggi i consiglieri comunali di Forza Italia hanno annunciato battaglia. L'azione comunale il giovedì non fa pagare il parcheggio per aiutare la movita e poi però vessa questi esercizi aumentando praticamente il costo dell'imposizione e oltretutto per finanziare spese superflue e eccessive che non inceremo nel dettaglio e che non sarebbero neanche da far sostenere a nostro avviso ai cittadini salernitani con la tassa. Con 1.400 euro circa pro capite a cittadino Salerno può dirsi il comune delle tasse. Con queste parole l'opposizione è pronta a dare battaglia domani in Consiglio Comunale contro l'aumento dell'Atari per la quale sono previste entrate in più per 700.000 euro e della tassa di soggiorno incrementata del 20%, un aumento che andrà a farsi rivalere sulle attività commerciali per le quali oggi i consiglieri comunali di Forza Italia hanno annunciato battaglia. Io penso che è un problema politico e un problema anche di burocrazia, non ce la prendiamo con i funzionali perché povera gente, anzi con questo che sta succedendo la burocrazia durerà ancora di più. Pensate un po' per fare una gara d'appalto ci vogliono dei 10-12 mesi ricorsi, questa e quest'altra non si compina bene, bisogna cambiare il metodo. Poi sulla spazzatura non vogliamo fare il gallo come si dice sulla spazzatura, il momento è difficile, difficilissimo, la gente a Salerno pensava con la differenziata di pagare meno spazzatura, invece i salernitani vanno a pagare quasi 40 milioni di euro. L'Ucid Artista è una manifestazione che noi in sé non abbiamo mai criticato, a un certo punto ha presentato il conto, cioè ci sono queste illecità che la Corte dei Condi ha ritenuto di ravvisare che sono certamente espressioni di una responsabilità politica, non me la sento di prendermela più di tanto con i funzionali, i quali seguono le direttive e le linee guida dei responsabili dell'amministrazione. A ricordare di aver dato battaglia, sono anche i rappresentanti di Fratelli d'Italia con diversi esposti ed oggi dicono a pagarne le conseguenze, sono sempre sui cittadini salernitani. L'incompetenza della parte politica nel gestire determinate procedure, nel rispettare determinate procedure, noi di Fratelli d'Italia lo avevamo già denunciato anche tramite un nostro esponente amministrativista, il professore Gerardo Marenghi, che c'era una totale inosservanza di queste procedure. Quindi l'amministrazione comunale dimostra ancora una volta la propria incompetenza a spese poi alla fine dei cittadini, perché il danno era reale, altro non è poi il danno dei cittadini. 820 mila euro non sono certo spiccioli. E quindi vedere un atteggiamento così arrogante da parte del Comune, che non affronta questa situazione così grave, si riverbera poi alla fine in danno dei cittadini.